Buongiorno a tutti, impresa del volley femminile che va a vincere 3 a 1 in Volley Nation League con la Turchia conquista 10,62 punti che gli permettono di aggiungere alla propria classifica un punteggio che gli darà la possibilità di poter essere ammessa alle prossime Olimpiadi impresa incredibile delle azzurre di Velasco che battono in questo momento la squadra più forte d'Europa e una delle più forti al mondo, questa è una grandissima soddisfazione soprattutto perché il lavoro incomincia a vedersi il lavoro incomincia a pagare, i risultati cominciano ad arrivare e con questi 10,62 punti riusciamo a scalare la classifica e arrivare tra le prime per i ripescaggi alle Olimpiadi speriamo bene azzurre avanti così nella volley Nation League più lontana arriviamo più possibilità abbiamo di andare alle Olimpiadi grazie a tutti per seguirmi, vi ringrazio sempre per la vostra disponibilità e vi invito a cliccare in basso a destra su iscriviti, iscrizione gratuita ciao 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 ciao